Il presidente del Parlamento di Vanuatu, Marcellino Pitite, con nato per corruzione, si è accordato la grazia presidenziale approfittando di un viaggio all'estero del presidente Baldwin Lontail. L'Ipitite si trovava quindi a sostituirlo e si è autograziato concedendo il beneficio anche a 13 altri parlamentari. Lontail ha definito l'atto illegale e lo cancellerà al rientro.